Amici della Tactical Raiders, bentornati nella nostra grotta. Oggi siamo qui per presentare questo modello di Olight. Nella fattispecie ho qui questa Olight Odin Mini. Olight Odin Mini, torcia tattica da montaggio ovviamente su armi da fuoco. E' questo piccolo mostriciattolo che vedete montato su questo fantastico mostriciattolo. Abbiamo qui un Green Mountain G15 con canna da 18 pollici, interamente allestito con pezzi Macpool da Brownells Italia. Comunque abbiamo qui questa bellissima Olight Odin Mini montata su una slittarista. Di serie viene fornita con kit di montaggio su sistema M-Lock. Noi abbiamo preso questo adattatore per andare ad agganciarla sul RIS convenzionale. Allora viene fornita un remoto, che come vedete l'arma è totalmente in sicurezza, fornita con questo remoto che va ad agganciarsi alla slitta RIS. Il remoto ha una doppia funzionalità, ossia con un tocco veloce resta in funzionamento continuo, mentre invece con un tocco prolungato funge proprio da pulsante. Come tutte le torce di questa serie di Olight ha questo sistema magnetico di montaggio del remoto, come vedete lei funziona egregiamente anche senza remoto, anzi, usandola col pulsante riusciamo anche a dosare la potenza. La potenza che ai massimi livelli supera i 1200 lumen, è una torcia fornita di sua batteria proprietaria ricaricabile di grande capacità, se non erro supera i 2000 mAh, le operazioni di ricarica avvengono tramite il suo cavo proprietario magnetico che si attacca qui dietro, è dotato di led per lo stato di ricarica della batteria, ha la particolarità che quando l'autonomia scende di un toc ci avverte mediante una vibrazione. Ora chiedo il buio totale, guardate anche se siamo a breve distanza ovviamente, guardate il fascio come è concentrato, spero in un futuro molto prossimo di riuscire a fare uno dei nostri uno dei nostri classici test sul campo, per ora cosa devo dirvi? Che il valore commerciale di questa bellissima torcia si aggira intorno ai 170 euro, però come sempre vi invito a tenere d'occhio la pagina ufficiale di Olight Italia perché ogni 3x2 fanno delle flash sale e delle promozioni veramente interessanti come è capitato per tutti gli altri modelli recensiti. Ora, dalla mia grotta illuminata egregiamente da questo piccolo mostro, come sempre io vi invito a seguirci sui nostri social, iscrivervi al nostro canale YouTube e seguirci sugli altri nostri profili Facebook e Instagram. E anche per oggi JC, la Odin Mini e questo mostro di Urban Marchment vi saluta. Ciao! Ciao!